cari amici ben ritrovati amici di Telerama un avvio di fine settimana che vedrà un progressivo generale miglioramento dove sulla Puglia centro settentrionale sulla Basilicata magari ancora al primo mattino qualche nuvola ma poi prevalentemente sereno con il rinforzo del maestrale che gradualmente spazzerà via le nuvole anche dal Salento ma non al mattino difficilmente nel pomeriggio quindi al mattino sul Salento ancora nuvole e qualche piovasco rovescio di pioggia poi dai settori settentrionali del Tarantino e del Brindisino avanzeranno delle aperture del cielo sotto la spinta di queste di questi venti settentrionali il maestrale che sarà nel corso della giornata sempre più deciso quindi tra il pomeriggio e la sera ampie aperture del cielo a partire dai settori più settentrionali salentini e dentro sera le aperture del cielo si vedranno anche sul Salento centro meridionale quindi ancora molte nuvole ancora al mattino soprattutto al massimo il primo pomeriggio qualche goccia piovasco rovescio di pioggia ma gradualmente migliora e sabato e domenica estate convento da nord arrivederci